Buongiorno amici di Milanello, grazie per lo spazio che Andrea mi concede, mi raccomando per sdebitarmi vi invito a mettere un like e ovviamente se non l'avete fatto ad iscrivervi al canale. In un famoso sketch Corrado Guzzanti interpretava il personaggio di Vulvia, Vulvia presentatrice un po' sballata del famoso re-educational channel e c'era uno sketch in particolare che era quello degli spingitori di cavalieri, cavalieri che vanno a combattere con pesanti armature ma chi glielo fa fare, chi li spinge a fare tutto quello che loro fanno, spingitori di cavalieri. Ecco, nella nostra società in realtà cosa succederebbe se non ci fossero gli spingitori di dirigenti? Mi piace partire nei ragionamenti a volte al contrario, cioè guardare che cosa sarebbe se non ci fossero determinati interventi, appunto togliendo gli spingitori cosa succederebbe? Vogliamo immaginare che gli spingitori possono essere Ibra, ovviamente la curva e ovviamente il tifo anche non organizzato, quindi le varie proteste sui social eccetera, sempre che ne tengano conto, però evidentemente di quella organizzata ne hanno tenuto conto. Beh, il Milan sarebbe probabilmente nelle mani di Lopeteghi, ma in realtà io penso che se non ci fossero stati determinati insuccessi plateali a causare un certo tipo di malcontento nel pubblico, noi avremmo avuto Pioli e avremmo avuto probabilmente Pioli riconfermato con un contratto anche allungato. Perché rappresenta perfettamente quello che la società vuole, la società non sentiva il bisogno di staccarsi da Pioli e questo nelle dichiarazioni di Scaroni. Dopodiché nel momento in cui si è andati a cercare un altro allenatore, cosa paradossale perché una società normale dovrebbe già avere un piano B, probabilmente non dico da inizio stagione ma quasi, soprattutto se decidi di fare una scommessa come quella che è stata fatta su Pioli durante la scorsa estate. Però questo piano B non c'è mai e lo vediamo anche in questo periodo, è vero che tanto è speculazione quello che leggiamo è scritto da giornalisti che hanno interesse a far girare nomi, a creare anche confusioni intorno al Milan che però purtroppo è diventato un circo a tutti gli effetti e questo ahimè ai nostri detrattori bisogna dargliene atto. Che voglio dire nonostante per noi possa essere un male che ne possiamo dire noi, ma tutta questa serie di nomi non è molto distante da quello che è successo in coda dello scorso calciomercato quando sulla punta si è fatto lo stesso tipo di confusione, ovvero last minute completo, autogestione, panico, chi prendiamo, basta prenderne uno. E' un po' adesso è quello che sta succedendo. Perché? Perché la loro prima scelta sarebbe stato Pioli. Gli sono stati rovinati i piani, gli spingitori gli hanno rovinato il piano e li hanno costretti ad andare su un profilo, Lopeteghi, che era quello giusto per loro perché era una sorta di Pioli bis. Ma gli abbiamo di nuovo rovinato i piani, gli spingitori gli hanno di nuovo rovinato i piani. Altrimenti la convergenza, la deriva di questa società porterebbe senza alcun tipo di equivoco e di dubbio verso al solito mantenimento, il mercato fatto non con i soldi guadagnati e reinvestiti, ma fatto con la cessione veditonali. Quindi noi che non abbiamo bisogno, lo sbandierano da tutte le parti, anche come vanto, di vendere, ma pare non abbiamo soldi per poter fare mercato. Oppure dobbiamo fare il mercato di chi invece è indebitato, cioè avere lo stesso tipo di possibilità economiche, quindi non trarre alcun beneficio dai conti apposto, ma accontentarci di quello che può fare una qualsiasi squadra di metà classifica oppure di chi invece ha seri problemi economici e quindi voglio dire fondamentalmente qual è lo scopo, qual è il beneficio di essere virtuosi se non per loro, perché a noi francamente ne viene molto poco. Ora noi abbiamo tutta questa serie di interventi, finalmente la curva ha deciso a parlare tardivamente, ma l'ha fatto ed è importante a prescindere. E l'ha fatto in una maniera estremamente chiara, più chiara di così non poteva essere. E chiaramente si sa che per gli americani questo può essere un danno di immagine, anzi io sono sicuro che lo sia un danno di immagine. Però in realtà qual è la nostra convergenza naturale e soprattutto chi è, anzi qual è delle quattro ruote quella che va e porta e devia dal percorso naturale del Milan, che sarebbe quello di competere appunto tutte le cose scritte giustamente dalla curva. Mi sembra chiaro che sia Elliot la parte non in linea, noi accusiamo Redbird e anch'io per carità, giustamente perché c'è scritto che è il presidente del Milan, che è il proprietario scusatemi del Milan, presidente Escaroni, altra cosa anomala perché ovviamente non è un'espressione di Redbird, lo è diventato, ma credo più per interessi nella gestione della pratica, della grana burocratica dello stadio. Altrimenti qui a parlare e a fare braccio di ferro, l'abbiamo visto con doveva arrivare Cobboglio, doveva arrivare, si fanno nomi per esempio anche su chi vorrebbe Ibrahimovic che poi non viene, perché c'è sempre questo ostacolo Furlani, Furlani che ostacola, Furlani che si mette di traverso, Furlani che è espressione di Elliot e non permette alla società Redbird, che invece è proprietaria al 100%, dovrebbe avere la decisione al 100% sulle questioni sportive o comunque relative alla gestione della società, invece deve sempre fare i conti con questo conciliabolo di persone e personaggi che rappresentano il debito, sono i creditori, ma fondamentalmente non dovrebbero essere altro, eppure i creditori sono stati messi in ruoli chiave e mi chiedo perché, e mi chiedo perché debbano avere più voce rispetto ad Ibrahimovic, quindi io da un certo punto di vista se proprio dovessi buttare giù dalla torre qualcuno non butterei giù dalla torre Redbird, perché se Redbird realmente volesse Conte, beh io sarei contento, se Redbird veramente volesse fare una gestione diversa, un mercato diverso, beh io sarei anche contento, è chiaro che non sono contento del fatto che Redbird sia proprietario del Milan ma con un fortissimo debito, cioè non è una società, un'azienda, un asset che ha comprato un altro asset al 100%, lo ha comprato purtroppo facendosi prestare i soldi perché non lo ha voluto prendere interamente, per motivi che non sappiamo perché disponibilità ne avrebbe, ma è loro ragione di investimento, quindi su questo non metto bocca. Quindi pare che tutte le convergenze sbagliate, la ruota veramente quella fallata che porta tutto in una direzione sbagliata, sia quella di Elliot, Elliot che dovrebbe essere fuori da ogni tipo di gioco, se non appunto essere semplicemente il creditore, colui che ha finanziato, quindi non dovrebbe entrare nelle questioni economiche, perché se io comunque i soldi te li ridò, se trovo un altro investitore come PIF, altro caso in cui ovviamente Elliot si è messo di traverso, beh non vedo dove sta il problema, trovo qualcuno, mi dai soldi, ti tolgo dalle scatole e tu non ci sei più. Invece continuiamo ad avere questo problema. Ora vado al nucleo del mio ragionamento. Abbiamo visto che c'è questa convergenza, abbiamo visto che però con un intervento di spingitori, tra virgolette, noi riusciamo in qualche maniera a raddrizzare la corsa della macchina, il percorso del veicolo e in un certo senso provare a farlo andare dritto. Ma la domanda mia è, ma per quanto potrà durare? E soprattutto puoi vivere senza fare un intervento che poi ti riassetti, ti rimetta a posto la macchina con una convergenza che devi ogni volta cambiare? Se questo è l'istinto di questa proprietà, comunque sia composta, ma se questo è l'istinto e se ogni volta dobbiamo fare questo tipo di intervento per ricordargli che cosa sia il Milan, beh è palese che questa non possa essere una proprietà con cui noi possiamo andare avanti a lungo. Questa è una proprietà che deve essere cambiata quanto prima, sperare che facciano i loro interessi e quindi che facciano la, tra virgolette, pipì nel tappeto bello di casa Milan fino a che non hanno svuotato la loro vescica e poi sperare che si tolgano dalle scatole e che arrivi finalmente qualcuno che voglia comprare il Milan per intero, senza debiti, partendo dalla storia, dalla tradizione e dalla gloria del Milan. Io, una società con la convergenza difettosa, con gli spingitori e i raddrizzatori di convergenza, francamente non lo voglio. Fatemi sapere che cosa ne pensate nella sezione commenti. Grazie.